Marco, grazie dell'ospitalità, sono felice di essere qui nella tua abitazione, nel tuo studio a Milano dove sono passati tantissimi batteristi che hai istruito, che hai formato nel corso degli anni, ma prima di parlare di tutti i tuoi allievi, del tuo lavoro famoso a tutti come didatta, vorrei parlare più del tuo lavoro come batterista, quindi dei tuoi esordi, dove sei arrivato, come hai studiato, che esperienza hai fatto, raccontami un po'. Io mi sono avvicinato, come siamo avvicinati molti del mio periodo, con il fustino di Dixanne, che aveva un suono fantastico, tutti quelli della mia generazione. Ma tu avevi già dei musicisti in famiglia oppure sei stata una passione? No, 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 mio padre era abbastanza abbassionato di jazz e di musica in generale, anche mia madre, anche mia madre, un po' di più come musicista, però gli piacevano quando sono usciti i Beatles, gli piacevano i Beatles, insomma, hanno seguito, e io ovviamente, e tutte, anche le mie sorelle, i fanatici dei Beatles. Però, diciamo, non c'erano musicisti. Io mi ricordo che andavo, siamo andati per nove anni, abbiamo fatto le vacanze, anzi, la villeggiatura, un mese bello filato, a Chiavari, dove di fianco c'era una balera, si chiamava Tukul, che ha fatto proprio tipo i vecchi Tukul africani, dove suonavano. E io stavo anche a dormire, non troppo distante, per cui la sera sentivo questi che suonavano i beat di allora e anche dei boni cupe. E io ero il piccolino, per cui però, e mi ricordo che passavo le ore, il pomeriggio, invece di andare al mare, sulla batteria. Ah, quindi potevi, avevi modo proprio di passare il tempo sullo strumento. Sì, sì, c'è anche delle foto su quella vecchia Hollywood. Ma qualcuno ti ha insegnato pure, vabbè, vai i suoni. Ai tempi no, ai tempi non mi ha insegnato nessuno, no. Ai tempi non mi ha insegnato, poi ho cominciato, sono andato alle medie, e mi ha cominciato, dietro varie pressioni, a regalarmi la batteria, che era una mea Jolly Meazzi, rossa, visto che non volevi che lo dicessi. No, perché a tutti dico, allora, non dirmi di che coloro era la batteria, e a tutti gli dico, la mia batteria era bianca. Ma il tuo primo impatto è stato gioco il jazz? No, assolutamente. Oppure rock and roll? Assolutamente, il mio primo impatto sono stati i Beatles. Ok. I Beatles. Dimmi qualcosa su Ringo, dimmi la tua, che io lo amo. Anch'io lo amo. Guarda, Ringo, non dico nulla di nuovo. Apparato era un tempista pazzesco, e poi, adesso che vediamo i video, vediamo che anche ce n'è uno, mi ricordo, dove suona all'inizio, all'inizio della sua carriera, credo, però è uno dei primi concerti in America, dove c'è il palco che si muove, pertanto c'è da dentro, che uno dice, invece è un po' super rock and roll. E poi, specialmente nella seconda parte della carriera, è l'unico batterista di cui tu puoi isolare tutti gli altri, e solo da quello che fa la batteria, a capire che brano è. Sì, ecco, ma che bello. Come together, tomorrow, never know. Sì, 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 sì. Ticket to Ride, Ticket to Ride era il mio incubo, era il mio incubo perché non riuscivo a suonarla. Che poi ho capito in un prato tutto, però all'inizio cercavo di fare qualcosa con il Charleston ed era difficile. Lo trovavo molto difficile seguire i Beatles. Trovavo molto più facile seguire Rolling Stone, tipo, mi ricordo che c'erano il 45 giri di Ruby Tuesday, e la Spend the Night Together, che ci suonavo dietro al legamento, mi piaceva. Sui Beatles ero sempre difficile, proprio perché Ringo era in grado di fare queste ritmiche che erano particolari e che non seguivano la logica degli altri. Ma quando è che poi, scusami se ti interrompo, hai cominciato proprio a imparare lo strumento vero e proprio, a studiare, avvicinare a... Dunque, io credo alle medie, alle medie inferiori. E lì, probabilmente, deve essere stato lì che ho prestato i miei genitori, che avevamo conosciuto tramite dei giri, avevamo avuto il nome, avevamo conosciuto il nome di un batterista, che era Lino Liguori. Lino Liguori, che era un batterista, che allora era un batterista di Sette Voci, che era un primo programma di Pipo Baudo, era un batterista di Gianni Dorelli, poi ha fatto Portobello dopo, un batterista che... E poi suonava molto jazz, soprattutto suonava o tradizionale o free. Per cui era... Nel frattempo c'è stato anche un intermezzo di clarinetto, al conservatorio, sì. Perché gli insegnanti in quegli anni non c'era, cioè ce n'erano pochissimi gli insegnanti in giro. Ma c'erano, parliamo di batteria, di batteria a Milano, insegnante... Cioè Liguori dava qualche azione, ma però l'insegnante era Lucchini. Lucchini è stato diventato soprattutto noto dopo che i due batteristi giovani, che sono andati più, che erano più bravi a Milano, e a Paolo Pellegrati è ben piaciuto, sono stati... I suoi. I suoi, quello che gli ha dato... Stiamo parlando degli anni? Settanta. Settanta, ok. Gli ha dato la notorietà, come Steve Smith e con l'aiuta, se vogliamo, perché ricevi, e se vogliamo, come a me, Enrico Matteo e Giovanni Giorgi, ecco. Ciao ragazzi, il mio consiglio è studiate con Marco Volpe, perché è un vero e proprio genio della didattica. Io ho conosciuto Marco a 15 anni e mi ha introdotto agli studi del jazz tradizionale. La cosa fantastica di studiare con Marco è che non si limita a farti ascoltare o trascrivere una parte di un grande batterista. E sottolineo il fatto che, grazie a lui, ho conosciuto in profondità Tony Williams, Vigio Jones, Max Roach, Art Blakey, Jack Dijonet, ma Marco fa vedere ai suoi studenti cosa potrai vol fare con quegli studi, che è la cosa più importante. Attualizzare qualsiasi discorso sulla batteria in un contesto moderno. Questo è quello che propongo adesso io ai miei studenti, grazie al fatto di aver potuto vedere in profondità certi studi con lui. Quindi, Marco, grazie e un saluto a tutti. Poi vai negli Stati Uniti. Vado negli Stati Uniti, sì. Vado negli Stati Uniti, che io vedo, ho tanti allievi che sono andati negli Stati Uniti ultimamente. Sai, internet. Allora, ok, arrivo, ho già la casa. Allora, così, mamma, sto bene la sera quando... Facciamo festa. Appena arrivi, Whatsapp, sì, video dove sono... Sono passati neanche 40 anni, ma in effetti era un altro mondo. Cioè, tanto... Sperduto. Sperduto. Io mi ricordo la pensione per avere, per iscriverti, andavi tutto via apposta. L'hai via apposta, per quello ho fatto la richiesta, ho aiutato il mio cugino che parlava bene inglese, la richiesta del catalogo, mi ricordo l'attesa di questo catalogo, non arrivava mai. Quanti anni avevi quando sei andato? Non ero piccolissimo, avevo 25 anni. Ok. Com'è stato entrare in quell'istituto, vedere il livello che c'era, l'insegnamento? Te lo aspettavi così o è stato diverso da come? Non vedevi? C'è una cosa importante a dire. Allora in Italia non c'era niente del genere. Niente che mi assomigliasse neanche lontanamente. Ok? E in definitiva, pensando adesso, non era così grande quando sono andato io, perché poi nel corso degli anni adesso hanno comprato tutta la via e dunque pian piano stanno costruendo edifici, nuove cose, nuove cose. Allora erano due edifici abbastanza grandi che comunque già venendo da qua sembravano una cosa spaziale. Sì. Quando hai studiato con quei didatti, con quel sistema, cos'è che ti ha cambiato da un punto di vista musicale, sia come musicista ma poi anche come didatta? Perché poi subito dopo sei tornato e hai cominciato a lavorare anche in questo senso. Lavoravo come didatta anche prima, per me è sempre piaciuto. Anche se non... Però mi ricordo che già ancora prima di partire davo lezioni, ma a me è sempre piaciuto quell'aspetto. Non è sempre appassionato. Ti faccio questa domanda perché quando si cita il tuo lavoro come didatta si dice che tu sei stato quello che ha portato in Italia un certo tipo di metodo, un certo tipo di sistema, un certo tipo di linguaggio didattico. Quindi è per quello che ti citavo la Berkeley. Allora, sì, in realtà non bisognerebbe citare la Berkeley perché io ho studiato con Alan Dawson e Gary Cefi, ma che quando sono andato io non insegnavano più alla Berkeley. Ok, quindi eri a Boston ma studiavi con loro privatamente. Esatto, io ho studiato con un bravissimo musicista e didatta che si chiamava Joe Hunt, che aveva studiato, tuttora lo sento, lo vedo, ha superato gli 80 anni ormai, che è stato Battisti B. Levan di Stanghezza, ha fatto dischi, ha fatto veramente un grande batterista, forse non abbastanza considerato, ma che era molto musicale. Cioè uno diceva la Berpi, tecnica della palla. Probabilmente ci sono anche quelli lì. Invece con Joe Hunt, tecnica, proprio non se ne parlava. Lui suonava molto bene il piano, suonava il piano, un po' la B. Levas, per la strada B. Levas, io suonavo, c'erano idee, c'erano queste cose, era molto bello. E devo dirgli grazie, perché io pensavo di andare là, come faceva molti dai tempi, per un anno. Era già chiarissima. Invece lui, per farmi finire, si è mosso per farmi avere la borsa di studio. Adesso uno può prendere la casa dall'Italia, eccetera, è più facile. Allora manco sapevo che c'erano. Però contemporaneamente facevi degli studi privati. Però mi sentivo, vedevo gente tecnicamente preparata, io vedevo, e poi ovviamente i nomi di Alan Dawson, i Gericeffi già, li conoscevo già prima ancora di partire. E lì era, lì ho visto cosa voleva dire fare l'insegnante. Cioè, un programma molto più definito, quello di Alan Dawson. Più definito quello di Alan Dawson, che aveva proprio, infatti, è uscito il libro di John Ramsey, che era un caro amico, sull'insegnamento. Mentre Gericeffi era molto più, spaziava su tante cose diverse. Io con Gericeffi volevo studiare soprattutto le cose più funk, dunque tutto il discorso del fatback, e poi linear sticking. E anche, no, linear sticking, sempre a tutto. C'è ancora giù i libri, tra l'altro, lui scriveva. E anche lì avevo capito che, ho visto un altro il tuo video sulla didattica, che io da lì ho seguito, cioè che se non sai neanche cosa hai dato la volta prima, cosa fai? Ah, cosa abbiamo fatto? Oppure oggi facciamo così. E lì invece ho visto come erano strutturati, anche come continuità. Alan Dawson ti dava delle specie di ricette, tipo quella del medico, con le cose da fare, poi te le dava, poi tu la lezione dopo le ridavi, per cui le guardava, e da lì si ripartiva. Gericeffi ti scriveva le cose su un quaderno. I libri di Gericeffi ti danno solo, a lui servivano come guida, ma poi su ogni pagina gli metteva un sacco di robe in più. Cioè tutto il sistema feedback, lì dice poche parole, ma in realtà è molto più ampio, con accenti alternativi, con ghost note, eccetera, tutte cose che non trovi sul libro. E per cui ecco, avevo il libro, ma poi lui aggiungeva, 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 e diventavano una cosa, quelle tre pagine famose diventavano una cosa enorme. Visto che hai citato Steve Smith con l'aiuto, che tra l'altro non so quanto a lungo abbia studiato in realtà, perché ci sono giudizi discordanti, c'è chi dice che si è studiato qualche mese, chi di più te. Comunque ha fatto sta che Gericeffi diceva che quando dava gli esercizi da fare, diceva io davo questo lavoro per 7-15 giorni e arrivava con l'aiuta rispetto agli altri, me lo faceva in un terzo del tempo e con molte più variazioni. C'era già una predisposizione. Assolutamente. Lui diceva perché Steve Smith e con l'aiuta vivevano assieme, vivevano assieme proprio lì. Cioè non è che Steve Smith non studiasse. No, Steve Smith studiava perfettamente. Oltretutto, però loro andavano con la Berkeley quando erano con, cioè Gericeffi insegnavano a Berkeley e alla Berkeley alla fine c'è mezz'ora, c'è mezz'ora di lezioni private, tutto il resto sono laboratori eccetera. Però ha visto che erano i due più dotati allora li faceva fare, li faceva un'ora assieme a tutti e due. E sì, quello che diceva è che quando diceva chi vuol venire fuori Smith era subito lì e faceva degli esercizi perfetti. Con l'aiuta li faceva perfetti, però ecco li metteva quella e poi diceva sì e poi questo l'ho fatto così, poi questo l'ho fatto cosà, cosa mi faceva Giovanni Giosi. Ecco infatti volevo prendere questo gancio per chiederti questa cosa perché quando tu lavori con un allievo estremamente predisposto tipo Giovanni, dico Giovanni perché lo conosciamo e chi lo conosce bene mi dice guarda che Giovanni ha 18 anni suonava già così. Adesso non so se è vero perché probabilmente veniva in quegli anni lì da te però aveva già un grande talento aveva già una predisposizione tecnica quindi in questo caso quando tu hai degli allievi che invece non hanno quel tipo già di talento di predisposizione come fai a farli raggiungere risultati che hanno raggiunto perché potrebbe che siano arrivati qua tutti geni, no? Allora innanzitutto tutti quelli che noi possiamo prendere tutti quelli che sono usciti da me di cui che hanno avuto e anche e non solo loro cioè tutti quelli che sono diventati famosi ma anche altri altri bravi che magari per questione familiare o anche solo per semplice sfortuna non sono diventati ma è già una predisposizione. cioè erano già Giorgio ma anche Enrico avevano già una certa dose di talento certo tutti avevano già una certa dose di talento che io cercavo di coltivare di coltivare ecco cercavo di fare quello devo dire che Giovanni è venuto da me per aver studiato con suo padre ha iniziato poi insomma già tecnicamente preparato devo dire molto di me Enrico era molto ben impostato era stato impostato con Giorgio Gandino che era un po' il Lucchini di Torino era già molto ben impostato ma forse l'ho visto crescere maggiormente musicalmente con me ok anche perché se non ricordo male Enrico ha anche studiato un po' più a lungo con me rispetto a Giovanni buongiorno a tutti ciao Dado ciao Marco io ho iniziato a studiare con Marco Volpe a partire dalla seconda metà degli anni 80 dunque ero proprio un ragazzino e sono andato avanti per molto molto tempo è stato un maestro per me fondamentale per la definizione del mio stile ed è proprio questo il valore aggiunto più importante che riconosco cioè quello di essere stato condotto senza forzature nella ricerca nell'elaborazione di un suono personale un suono unico attraverso l'apprendimento di tecniche all'epoca rivoluzionaria Marco arrivava da Berkeley e mi ha introdotto lui i concetti di sticking di linear e ho fatto soprattutto tantissima lettura interpretativa che è secondo me la chiave fondamentale per imparare ad elaborare delle singole idee ritmiche in modo anche molto molto articolato mi ricordo davvero con stupore il fatto di aver avuto in mano le prime fotocopie di metodi tipo Gary Cefi Gary Chester e poi con Marco ho studiato anche il metodo minus one di Weckle di cui ancora qua un reperto dell'epoca addirittura con la cassettina e fra l'altro ho anche una confessione da fare a Marco ormai a non so 30 e passa anni di distanza ti ricordi quella volta che ho suonato perfettamente a prima vista quella simulazione di jingle di pochi secondi ebbene quella non era una lettura a prima vista perché io ero riuscito a procurarmi non mi ricordo in che modo il metodo e quindi quel pezzo me l'ero già studiato a casa ecco la mia confessione ciao Marco buongiorno un abbraccio ma volevo farti questa domanda quando arriva un tuo allievo privato e magari non ha la volontà di diventare un musicista professionista ma è solo un appassionato che vuole venire da te perché vuole fare bene determinate cose tu hai un approccio differente in base all'obiettivo che l'allievo si pone oppure per te c'è un tragitto che è uguale per tutti da fare nella primissima parte del percorso per imparare lo strumento no assolutamente anzitutto sicuramente la maggior parte di quelli che vengono comunque non vogliono entrare professionisti ok ok ma io faccio un colloquio il primo la prima la prima il sonno praticamente non si suona è un colloquio è un colloquio dove io cerco di capire quali sono innanzitutto le sue aspirazioni quali sono i tuoi tempi di studio quali sono i suoi gusti musicali ok e su quello mi baso poi c'è quello che dice voglio imparare voi fare professionisti suonare più forte jazz rock funk voglio un po' di latino poi big band e dico bello quanto tempo puoi studiare al giorno ma una mezz'oretta però non tutti i giorni allora ecco lì bisogna un po' ridimensionare il tutto ma ne ho avuti attenzione non ne ho avuti no no ma io voglio no in mezz'ora facciamo una cosa una e facciamo quella quindi preferisci chiaramente le mie cose che so che devo fare però ad esempio che so libri tipo il 4-way coordination non lo faccio con tutti anzi lo faccio solo di solito non lo faccio però con qualcuno dico qua devo prendere come la ria aspirina no qua c'è un problema allora facciamo questo se devo gin chapin di solito non lo faccio però anche lì indipendenza se puoi prendere no indipendenza faccio su altre cose però magari no però qua c'è un problema un po' monte poi c'ho tante cose scritte da me ci sono dei libri che invece assolutamente non puoi non fare cioè secondo te o comunque delle sezioni di libri importanti che sono comuni a tutti guarda secondo me io vabbè hai fatto solo una capita scorsa ma ho centinaia di libri sì ma se io potessi avere se io non fossi su un'isola deserta volessi fare l'insegnante e non so con chi per l'isola deserta comunque mettiamo che mi dice porta solo non più di 15 foglie sì porterei le 8 pagine centrali di syncopation le 3 pagine le 3 pagine iniziali di stick control e le 3 pagine di feedback con quello potrei con quello francamente potresti fare un sacco di roba sì non tutto ma potrei scriveramente sì però il feedback sappiamo è quel sistema eccetera poi delle cose in più posso dire la voce lo stick control sistema binario destra-sinistra che può essere mani-cassa può essere poi ogni la destra poi va da dire fai questo con la destra lo puoi applicare in migliaia e syncopation sono semplicemente delle figurazioni ritmiche che puoi applicare in migliaia per cui con queste 15 pagine che sono in realtà 14 c'è anche una pagina che poi non so è la prima pagina di 4Way sì ok con queste 15 pagine puoi fare si è già messo bene e quindi immagino che tu non abbia l'approccio del tipo ok iniziamo il libro finiamolo tutto ma piuttosto prendiamo quello che ci serve no assolutamente certo ok no so solo ma non ho più per vari motivi non ho non ho più principianti che vengono da me o bambini non ho bambini non ho perno di voglia quindi parti comunque da un livello minimo anche se però al 99 adesso come adesso non riesco a pensare nessun mio allievo che sia partito da zero in questo momento paradossalmente ho avuto un altro sanatorio anni fa che dovrebbe essere il posto dove invece non dovrebbero arrivare però allora parliamo dei conservatori visto che ci sei da tempo adesso possiamo dirlo diciamolo diciamolo perché vieni nella mia città vengo nella tua città vengo a Piacenza con grande gioia ti darò tre o quattro posti dove andare a mangiare ottimo quello è fondamentale ovviamente il conservatorio jazz ma io quello che chiedo a chi insegna appunto il conservatorio è di me l'ha detto guarda Lorenzo Poli quando l'ha intervistato mi ha dato una spiegazione bellissima però l'ho visto per capire a chi consiglieresti di andare a fare un corso di jazz un triennio jazz o insomma dare un'idea precisa di quello che è questa questo tipo di struttura di corso e cosa otterrà alla fine in sostanza cioè un principiante come hai detto tu che si iscrive al conservatorio per fare professionista evidentemente non è la scelta giusta non dovrebbe venire preso non dovrebbe venire accettato ok questo è il fatto c'è un esame di ammissione allora c'è un esame di ammissione dove dovresti essere ammesso solo se sei a un certo livello il problema qual è io in genere non prendo più di due allievi agli esami di ammissione che faccio io non sono mai passati più di due ok perché ci sono quanti ecco e questo è il difficile questo è il problema perché se si presentano in due alla fine prendi tutte e due perché il corso deve partire ti devi un po' contentare in questo senso esatto se si presentano in quindici yeah ma sai quindici si presentano a Lecce ci presentavano abbastanza sì a Milano ci presentano tanti conservatori che capacità minime dovrei avere per essere preso io ti dico io perché ogni docente ha le sue io voglio vedere studiare a Piacenza con Marco allora io le cose che richiedo le cose secondo me fondamentali più importanti sono le basi lettura e tecnica ok perché tu non ti iscrivi a un'università di lettere se non sai leggere non sai tenere in mano la non sai scrivere quindi conoscere la vera tecnica delle mani esatto poi il resto posso tutto il resto posso intervenire io ma non posso non dovrei è un'università è AFAM alta formazione musicale alta formazione se non sai leggere però attenzione adesso ahimè mi sono arrivata poi io entro in un isolatorio non ho fatto io a missione c'è gente che magari mi ritrovo che invece quindi devi un po' tornare indietro e questa cosa delle classi è un grosso problema e se tu ti trovi una classe poi no poi l'ultima cosa scusami se non vi piace il jazz non iscrivetevi il corso di jazz cioè corsi pop non iscrivetevi perché non no infatti ero curioso di sapere anche questa cosa del livello culturale che tu dovresti avere per andare a fare un corso jazz nel senso io che ho sempre avuto per esempio parlo di me ho studiato con Antonio Golino il jazz l'ho fatto però non mi sono mai innamorato cioè l'ho studiato come studiare un libro di indipendenza jazz come studiare sì la forma della struttura però non ci sono riuscito mai a entrare in questa cosa qua quindi se andassi a fare jazz oggi direi cavolo forse sarebbe meglio che cominciasse a ascoltare qualche disco a conoscere qualche batterista prima di andare perché è un'università quindi dovrebbe essere una specializzazione è un'università è alta formazione adesso è un'università e ci sono anche i corsi pre-accademici ma non in tutti i conservatori dove vado io non c'è mai stato il corso pre-accademico che invece dovrebbe essere fondamentale sì ho conosciuto Marco quando avevo circa 20 anni sentivo ad avere delle lacune a livello tecnico e lui nel giro di un anno un anno e mezzo mi ha totalmente messo a posto la cosa incredibile di Marco è che riesce a plasmare il percorso di studi proprio sull'allievo a lui non interessa il genere musicale che tu vuoi suonare ma a lui interessa metterti a posto e farti diventare un professionista un anno fa dopo anni che non andavo più a lezioni da lui mi è successo di farmi male a una spalla questo male alla spalla me lo sono portato avanti avevo un sacco di concerti in giro per cui non ho potuto fermarmi una volta guarito sentivo però di non essere ancora a posto allora ho contattato Marco e gli ho chiesto di darmi un'occhiata a livello posturale penso di essere stato seduto alla batteria a 10 secondi e lui mi ha detto certo hai preso una postura sbagliata mi ha dato due esercizi da fare mi ha detto come rimettermi in sesto nel giro di due settimane nonostante continuasse a suonare in giro mi è passato tutto per cui devo tanto amare con ancora adesso se faccio le robe che faccio un bel po' di merito suo grazie ciao tre pagine domande partiamo dal mio amico e tuo ex allievo Lorenzo Petrosiello ciao Lorenzo che ti chiede un punto di vista riguardo all'esperienza che hai avuto con la tecnica Muller di cui tu hai anche ampiamente parlato nel tuo sito quindi semmai rimandiamo il sito il sito a me è fermo da anni però almeno quell'articolo c'è l'ho letto molto bello la prima cosa che suggerisco anzi la cosa che suggerisco è di andare a vedere www.markvolpe.it ok e lì spiego molto l'unica cosa che potrei dire in più qua è che comunque se volete sapere la Muller intanto cominciare dovete tutto quello che sta sulla Muller è qua cioè questo libro è questo libro di Muller che ai miei tempi era trovabile adesso si trova con una certa facilità le uniche cose che vorrei sottolineare sono che all'inizio Ludwig che era l'editore parlando di Muller abbiamo avuto la fortuna di assicurarci un uomo con le qualificazioni per fare un libro come questo un uomo che non ha inventato nessun nuovo sistema ho scoperto questo sembra proprio quello che è diventato ho scoperto qualche modo di suonare fino a qua mistico fino a qua sconosciuto è convinto dopo anni di professional di batteria e ricerca che l'unica scuola è quella fatta da Joe Bruce nel 1862 il metodo questo è divertente il metodo di Joe Bruce è questo nel 1862 ristampato dove dice che in realtà tutto quello che dice lui si basa sull'Ashworth per cui è questo dell'inizio del 1800 per cui è una cosa antichissima ma secondo te perché anch'io sono appassionato del discorso della Muller l'ho studiato anche con Don Famularo che lui a sua volta l'ha studiato con Joe Morello che a sua volta l'ha studiato con Joe Morello non ha mai studiato però attenzione Joe Morello è stato con George Lohenstone sì 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 non con non con Samford Muller con Samford Muller ha studiato Jim Chapin e Jim Krupa e Jim Krupa infatti il metodo di Jim Krupa la prima parte è molto basato su questo sì la differenza sta nel fulcro però qua veramente ci addentriamo si va troppo nel tecnico si va troppo ma tu l'hai visto il video di Jim Chapin dove il VHS certo certo che ne dici nel senso che lì dice delle cose interessanti a proposito del grip dell'indice rilassato insomma tutte queste cose qua beh allora se tu guardi sempre il metodo Samford Muller ha scritto il libro mi sembra nel treno sì ok e non ha mai stato un batterista pure uno che suonava il tamburo il 60 tamburo e i tamburi allora erano anche diversi e il tamburo in realtà qua c'è proprio la foto questo è quello che cambia su Jim Cooper a Jim Cooper c'è il fulcro qua sì lui dice che la bacchetta è tenuta praticamente con questo perché serviva per avere più potenza per il tipo di pelle perché le bacchette erano molto più spesse era un'altra cosa tant'è vero questa era l'americana la svizzera se ne diamo ricorda addirittura è così sì sì perché oltretutto con il tamburo con l'arrudimento per cui ecco a mio parere allora il Cepin secondo me sembra brutto che io dica Cepin sbaglia una cosa però se tu guardi queste queste figure tu vedi che quando fa l'upstroke colpisce qua cioè lui fa ora ai miei tempi questo si chiamava colpo di frusta with emotion certo il nome Meule è venuto dopo perché piace trovare queste cose antiche come se appunto fosse qualcosa finora sconosciuta quello che già nel 30 Meule diceva che non era quello che fa Gene Cepin invece è questo cioè ho visto che da qua parte e fa tutto questo movimento perché non serve a niente perché mentre sei già in movimento che fai questo per acquistare tempo qua è tutta perdita di tempo cioè ti può servire giusto se quando suoni se vuoi fare questo ma il motivo per cui tu puoi fare la Meule sono solo due e il principale quando hai una rapida successione di colpi accentati e non accentati ora Gene Cepin quando lo fa veloce lo fa così quando lo fa lento va a vedere questa roba che secondo me è un movimento esasperato secondo te? no è un movimento inutile perché se tu sei a metà movimento quando fai mettiamo due ottavi così ha un senso ma fare 1 non ci riesco neanche 1 2 il movimento è lo stesso ma lo riduci tutto nella seconda parte della mi fa vedere anche la mano destra ti spiace? si sono un po' scomodo così facciamo così te lo ok ok perché ero curioso di vedere il fulcro vediamo se si vede bene sì poi possiamo andare avanti e parlare sul fulcro una vita 1 2 3 4 1 2 certo quindi molto più semplice di quello che questa cosa qua questa cosa qua la faccio fare anch'io specie questo alternale ma è più che altro capisci tutto il movimento la meccanica di tutto poi non lo usi ma poi alla fine no anzi Müller il movimento che trovate nelle foto sono tutti esagerati per il beneficio dello studente ma e all'inizio dovete studiarlo come pagina 7 all'inizio dovete studiarlo come lo vedete all'inizio per avere per acquistare perfezione ma quando poi cominciate a suonare più veloce deve essere decisamente diminuito più stretto la Don Famulario in In The Movie in effetti parla di full-möller alf-möller 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 ora la full e l'alf van bene per imparare ma poi quello che fai è questo infatti lo dice dice poi l'80% del movimento lo fai sempre con la con la alf-möller e semmai e semmai l'alf e qualche 100% e qualche batterista proprio esagerando il movimento ma per questioni a volte antiscenico esatto cioè esatto cioè se vedi Krupa faceva l'alf ok questa faceva proprio solo se volete fare la scena poi però vedi Badiris che in maniera probabilmente del tutto naturale faceva solo quella che potevano chiamare è più efficace dal punto di vista prettamente tecnico quanto tempo impiega e medie un allievo per diventare un vero batterista come superare le paure insicurezza e tensione dovute le prime esperienze sul palco quindi abbiamo un po' di psicologia anche qua c'è dentro allora c'è c'è stato un libro famoso che diceva che ci volevano 10.000 ore sì sì l'ha letto ci ho fatto anche un video sì sì ora chiaramente poi c'è quello che dice no ma è assolutamente in realtà se l'hai letto il libro spiega che ci sono anche tutta una serie di cose che devono rientrare in quel discorso lì è una certificazione pazzesca sì sì e può essere non valida anche per le 10.000 ore fate bene cioè la prima cosa è studiare le cose giuste questo se faccio a volte l'allievo quando vi do una cosa assicurati di farla giusta per un problema classico è quello do l'esercizio l'allievo va studia occasione esercizio ma non l'ha capito bene o non l'ha letto bene 10.000 ore devono essere fatte bene devono essere poi concentrate poi devono essere seguendo un percorso logico strutturato quindi non c'è non c'è un tempo che non c'è un tempo però ad esempio cito sempre e voglio citarla anche adesso c'è una bellissima intervista su internet di Paul Desmond che è il saxofonista di Tech 5 con l'osca sito Tech 5 a Charlie Parker e lui dice Charlie Parker tossico il talento puro ecco apparato che risponde Charlie Parker risponde con una pubizia e un'intelligenza notevole dice però alcune cose riguardo alla tecnica dice anche una cosa riguardo a quelli che partono dicendo io voglio cambiare il mondo voglio fare qualcosa di nuovo Desmond gli chiede ma tu che hai cambiato tutto eccetera hai cambiato tutto dopo di te è stato diverso ma come all'inizio pensare ma io non pensavo mica di cambiare tutto io cerco di suonare bene cerco di avere delle nuote belle che carine cerco di fare delle belle note non è che per cui il genio viene fuori indipendentemente da te se lo sei viene fuori se lo sei puoi sforzare che vuoi non verrà mai fuori dopodiché però sullo studio dice due cose notevoli una dice comincia a parlare del talento naturale Parker lo ferma su no ha detto no che talento naturale io per 3-4 anni della mia vita studiavo dalle 11 alle 15 ore al giorno un Parker 11-15 ore al giorno ha detto ho dovuto cambiare la casa due volte perché i vicini mi hanno obbligato a cambiare casa 11-15 volte avevo fatto il conto è più di 10.000 infatti stavo facendo che sarà 11-15 ore ai 12 13.000 ok e poi ha suonato sempre e poi un'altra cosa a proposito il talento e lo studio intanto lui dice lo studio è importantissimo fra l'altro fa l'esempio di Einstein potrebbe essere un genio ma se non ho studiato non veniva fuori e poi dice lo studio è come il talento c'è ci può essere ed è vero è come avere un bel paio di scarpe ma se tu non gli dai ma lo studio è la cera che gli dai su se tu non gli dai la cera il bel paio di scarpe il bel paio di scarpe non lo nota nessuno non viene fuori Marco Volpe è sicuramente uno dei principali responsabili della mia formazione didattica e musicale ho studiato con lui per due anni e mezzo attorno alla metà degli anni 90 ed è stato un periodo davvero molto formativo e pieno di stimoli per me Marco in quel momento era uno dei pochi batteristi probabilmente l'unico in Italia che grazie alla sua permanenza negli Stati Uniti e alla sua laurea al Berkeley avesse avuto accesso ad un certo tipo di didattica internazionale che mi interessava particolarmente andai a Milano e alla prima lezione mi resi conto immediatamente della sua grande preparazione della sua particolare sensibilità verso le mie esigenze ma anche di questa serietà che lui investiva nella didattica devo dire che riuscì ad accontentare i miei gusti le mie necessità musicali e riuscì ad allargare incredibilmente i miei orizzonti musicali piccolo aneddoto ogni volta che andavo lezione lui mi omaggiava di una cassetta di una musica a setta in cui lui mi registrava un paio un paio di LP di jazz tradizionale quindi conobbi tutta la fetta della tradizione batteristica del bebop attraverso di lui praticamente e mi accorgo ora che fece tutto questo con un grandissimo rispetto della mia identità batteristica senza cercare di omologarmi per forza a nessun altro questa è una grande dote per un insegnante per non correre il rischio di sfornare una serie di allievi che si assomigliano tutti tra di loro ecco oggi Marco per me è oltre che un grande amico è un prezioso consigliere è una persona a cui devo molto e che consiglio a chiunque voglia intraprendere lo studio della batteria grazie Marco ciao Corrado e ciao a tutti per quanto riguarda la paura del palcoscenico sai di solito uno non è che parta da zero allo stato di San Siro di solito pian piano prima suona per i parenti poi per gli amici questa è una domanda che è arrivata spesso nelle interviste che ho fatto e quasi tutti mi hanno risposto con molta preparazione e vai tranquillo quando vai sicuro su questo proposito ora non dico che sia risolutivo però c'è questo libro che probabilmente sì me l'ha consigliato anche Roberto Gualdi ecco questo è un libro fratto questo è un inglese fratto con la sua dedica io ho anche fatto una lezione con lui c'è anche tutta filmata non la faccio vedere per ogni motivo e ed anche in italiano questo spiega questo è un secondo me un libro fondamentale fondamentale per quegli aspetti ma non sono sì è un libro veramente che ti fa capire tutta una serie infatti ti fa capire lui che Niverne fra l'altro non è un teorico che Niverne è un pianista della Madonna come lui sarà il suo trio con la Rionica la batteria è un pianista pazzesco per cui non è quello che si è svegliato tutta teoria no è un pianista che ha anche lui affrontato determinati problemi l'altro che è qui per analizzare la 2 è uno che si chiama che non c'entra nulla con la batteria sembra lo zen e il tiro con l'arco ok questo è c'è è un praticamente un occidentale che va dato che ci sono questi orientali non mi ricordo l'ho letto un po' di tempo fa che hanno questa tecnica di tiro con l'altro formidabile con una rilassatezza e parla di lui l'occidentale che andava con questo grande maestro a imparare il tiro con l'arco però tante cose secondo me si possono ritrovare sulla batteria stavo leggendo qualche domanda perché alcune alcune abbiamo risposto durante un po' la chiacchierata Massimo Pizzano fa una domanda interessante dice quali sono stati secondo te i batteristi jazz che hanno evoluto l'approccio ritmico e melodico sia in termini di accompagnamento che di solismo e quali sono i batteristi di oggi a cui bisogna dare un ascolto più attento Max è un mio allievo di Mantua che fra l'altro è un ottimo ottimo batterista e bravissimo sul computer mi fa un sacco di per cui mi aveva già anticipato questa domanda a questo punto io mi ero scritto qualche nome oltretutto dato che deve fare l'esame di di storia della batteria già secondo me lo fa anche perché così almeno a questa però mi sono fatto un appunto sono veramente tanti per cui molto velocemente non posso dirne tre o quattro molto velocemente passando dagli anni venti Baby Dot anni 30 Cic Webb Papa Joe Jones Sini Kettle Gene Krupa Devtaf Ray Bodok e inizia Buddy Rich poi molti di questi sono andati avanti io dico quando sono venuti fuori soprattutto tutti lì sei iscritti tutti me ne sono scritti lì Buddy Rich dopo ci faccio una foto la mettiamo così ce l'ho ok allora vado avanti a dirgli negli anni 40 Kenny Clark Max Roach Roy Haynes innanzitutto anni 50 Tiny Khan poco conosciuto ma fondamentale per l'accompagnamento Art Blakey Mel Lewis Mel Lewis pazzesco soprattutto come battisti big band nonostante Buddy Rich il mio numero uno sulla big band Philly Joe Jones negli anni 60 Paul Motion Elvin Jones Tony Williams Jack Dejonette ovviamente e poi c'era la parte Free Jazz San Nimore Andrew Cyril negli anni 70 Billy Hart che rimane uno dei miei battisti preferiti che ho avuto piacere di conoscere e di andare a casa sua un altro non si può dire che è sottovalutato perché ha suonato con tutti è uno batterista forse meno noti come nome ma secondo me è veramente uno dei più grandi John Christensen che a me è mancato da poco fondamentale come per un certo modo di suonare la batteria più europea Al Muzon che è un batterista che aveva suonato dall'inizio con Igueda Riport e con McRitiner che esistono in fatti due o tre anni che tutti dovevano suonare con Malmuzon che tutti ha cominciato a suonare con il piatto là in quel periodo poi praticamente è scomparso non so cosa faccio adesso Peter Erskine Peter Erskine che ovviamente è tuttora un granviso batterista ma che il periodo Igueda Riport e Steps Ahead è stato un batterista pazzesco lui è tuttora però diciamo che lì è esploso dopodiché secondo me farà un po' l'età ma si rifanno c'è stato Joey Baron senza altro che pure è iniziato negli anni 70 ma poi forse è venuto più volo negli anni 80 Jeff Watts che era mio compagno a Berkeley Marvin Smith Smith un altro grandissimo batterista che poi ha scelto di lavorare in uno spettacolo televisivo però è un grandissimo batterista jazz e non solo jazz Jorge Rossi che suona col trio di Meldau e secondo me non c'è batterista migliore di lui per suonare con quel trio e quel trio è stato il top soprattutto con lui alla batteria Jeff Hamilton Jeff Hamilton che secondo me è grandissimo forse poi si parla di spazio con Jeff Hamilton oggi numero uno sulla spazzola oggi Jeff Hamilton non ha paragoni sulla spazzola più di recente magari non strettamente jazzistici Chris Dave Chris Daddy Dave che comunque ha iniziato proprio come jazzista puro ci sono dei dischi con Canigari e tali suona jazz da bravura Tyson Jackson questo è un giovane che ho scoperto di recente Tyson Jackson molto bravo c'è un bellissimo video dove suona con Jerry Basgonzi tra l'altro in modo curioso perché suona con due mali se l'incontrario per la maggior parte delle volte io l'ho anche scritto molto gentile mi piace più il suono senza mi piace così mi piace il balance il sound mi piace ha un piatto particolare per cui si sente bene con una balla trovesciata Ari Eunig Ari Eunig grandissimo Ari Eunig grandissimo anche lui l'ho conosciuto ho preso lezioni ho seguito batterista pazzesco Nate Smith noterai che non ho citato Gadd eccetera tutti i batteristi che suonano benissimo jazz ma non so io se sento Gadd è pazzesco uno dei batteristi che ha rivoluzionato il mondo della batteria però non sento il sound jazz comunque sia mi spiace con me non lo sento troppo con un altro batterista che mi adoro ma qua mi ha chiesto i batteristi jazz Dennis Chambers ah ok ok come lo sento in guecco mi spiace ma l'approccio jazz secondo me è un'altra cosa mentre i batteristi magari come Nate Smith è un batterista che magari non l'ho mai sentito veramente jazz ma c'ha il sound che io riconosco venire da un certo tipo di tradizione sì ok se poi devo fare un altro nome che c'entra con il jazz sì e no è quello del ragazzino quello J.D. Beck ah sì sì pazzesco J.D. Beck è pazzesco è pazzesco soprattutto mi piace quando suona con Domi al piano sì 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 che anche lei è pazzesca e Domi ho visto ieri proprio un video di loro che suonano Domi ha un jazzistico pazzesco invece perché c'è uno video dove rifà paro paro gli assoli di Coltrane di B.D. Beck era da adesso 17 pazzesco lei era da 21 22 visto che ti chiedono delle spazzole adesso vado a pescare le domande però praticamente chiedono del tuo approccio consigli metodo di studio poi Alessandro Maggiolino chiede parla del tuo sistema di studio che hai ideato e quali sono i batteristi vecchi nuovi da ascoltare hai detto Jeff Hamilton già che sistema hai di studio con le spazzole perché? se vogliamo parlare di batteristi velocemente direi i primi nomi che mi vengono fuori sono Papa Joe Jones figli Joe figli Joe Jones che è anche l'autore del primo libro sulle spazzole che non ho capito mai finché non ho saputo imparare finché non l'ho imparata da solo e poi rivedendo ho detto ah qua era questo qua era quello cioè non riesce a imparare dal libro io non riusci no ok un altro è un altro grande batterista sulle spazzole che ha fatto un libro che non ho mai capito ma che è proprio un approccio diverso però lui è pazzesco è Tickpen è Tickpen certo Paul Motion è stato un grande batterista un po' più fuori da un certo modo di suonare ma Paul Motion è stato un grandissimo batterista con le spazzole oltre che con la bacchetta e oggi direi Jeff Hamilton poi possiamo citare Stefano Bagnoli è certo assolutamente ovviamente sulle spazzole col quale abbiamo delle visioni diverse comunque sull'approccio sulla didattica ad esempio lui assolutamente le spazzole non le concepisce così dice no le spazzole suoni così cioè traditional solo suonate come volete ma le spazzole le suonate traditional e io non sono d'accordo ma perché lui fa altre cose rispetto a quelle che faccio insegno io per cui le cose che faccio insegno io posso sì assolutamente ok non cambia quasi niente sì non puoi fare i giochettini però sì però musicalmente puoi suonare sì ma voglio dire questo vale anche sulla batteria con le bacchette per te traditional match abbastanza ok allora voglio dire comunque per chiudere match cioè Max Roach ha suonato traditional fino a 75 poi è passato match sì come tanti passavano a match in quegli anni è stato Silke che ha rinvertito la sì che però adesso suona match anche lui ah ecco sì da qualche anno Roach quando è passato a traditional match anche le spazzole ha sempre suonato match per cui quello che posso dire ai ragazzi mi basta suonare le spazzole come Roach ecco lui le suona match per cui ma anche Ari Enigle suona match Bill Stewart un altro batterista che poter citare fra quelli Bill Stewart ho dimenticato tre batteristi importanti Bill Stewart suona match ma suona match anche le spazzole questa cosa di suonare match una cosa tradiziona l'altra io non la vedo molto dunque ci sono tre domande di Gabriele Silletti te ne faccio almeno una perché adesso praticamente chiede come potenziare sostanzialmente la mano debole la mano sinistra nel suo caso se ci sono degli esercizi che consiglio comunque del sistema secondo te allora ci sono un sacco c'è anche quello di un formulario ma anche tanti per la mano sinistra però secondo me la cosa che sa migliore non è neanche non l'ho inventata io l'ho letta più volte non mi ricordo dove quando noi studiamo mettiamo anche tre ore ok dedichiamo un po' più la mano sinistra va bene 20 minuti di più 30 minuti ok e poi il resto il resto della vita la passiamo con la mano destra io mi ricordo da ragazzo da ragazzo giovane quando potevo permettere semplicemente mi metteva dello scotch sulla mano destra in modo che facevo tutto con la mano sinistra cioè per quanto tu puoi studiare più con la mano sinistra il resto della tua vita è tutta fatta sei destro dovresti abituarti a fare dei momenti esatto se tu per sfiga ti ingessi braccio tre mesi tre mesi un anno poi per tre mesi a mano sinistra si sveglia quindi non c'è nessun esercizio particolare se non farlo di più sì esercizi magari privilegiare la sinistra su certe cose ma la cosa è vivere cercare di vivere il più possibile da mancino domandona di Ciro Roca cosa servono esattamente i rudimenti altro extra dievo i rudimenti servono i rudimenti tanto cosa sono i rudimenti sono i figurazioni di tamburo che allora i rudimenti ci sono i rudimenti Nard i rudimenti Pass e tutti gli altri i rudimenti Nard sono stati decodificati negli anni trenta perché erano i rudimenti erano le figurazioni su cui erano basate le 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 marce militare americane ok nel punto di perché c'è Rulo X non Rulo 6 Nard perché nel Trikamp c'è Rulo X è l'unico caso di Rulo Pari che trovi in una marcia la Pass poi ha aggiunto 14 rudimenti presi un po' qua un po' là qualcuno ci stava qualcuno secondo me lo faccio studiare perché perché c'è perché si considerano quelli però ad esempio nel sistema di Androsso non ci sono tutti i Pass ce ne sono 80 circa ma non tutti i Pass infatti ho aggiunto fatto io un'aggiuntina dei Pass anche all'interno del Ritual alla fine di quelli che mancavano in lui a cosa dopodiché la storia della ci sono chiaramente i rudimenti che si possono applicare bene cioè il paradido la sua batteria si aprirà benissimo altri meno ma però è come studiare le scale cioè tu studi le scale poi magari certe porzioni di scale le puoi mettere mentre suoni ma non le sai un po' più difficile da inserire sì esatto però ti dà la tecnica ti dà l'abilità una cosa però importante a proposito di Cefi Cefi non fa certi i rudimenti Cefi diceva che gli rudimenti è una roba vecchia che la sua batteria non serviva a niente lui diceva ci sono solo singoli doppi combinazioni singoli e doppi tutto il sistema di sticking dove ci sono paradido e flam io non sono d'accordo con questo approccio però ecco lui questo era il suo pensiero mentre avandoso è accettato i suoi rudimenti comunque a cosa servono ad acquistare tecnica poi se mi può capitare di applicarli ma non ci sono tanti libri che fanno applicazione mi sembra che anche Tony Royster abbia detto sì ho studiato singoli doppi paradido qualche rudimento ma i gospel i batteristi gospel io li sento suonare singoli doppi e un sacco di linear tantissimi linear ma ne ho mai sentito no e dubito che li abbiamo mai studiati da come sono da come li vedo non ti piace quel modo di suonare? cioè ti affascina in qualche modo o pensi che sia già un po' passata? Fatima mi sembra mi sembra che sia un po' passata adesso adesso mi sembra che sia quasi passato anche quello cerco di suonare fuori tempo sai cos'è? se te ne accorgi dagli ultimi video che vedi Zillian dove vedi Aaron Spears vedi ha cambiato molto il modo di suonare cioè secondo me in America quella cosa lì anzi forse stanno cercando il mio giudizio non so se è così mi sembra che stiano cercando un po' di uscire proprio da quel tipo di linguaggio visto che poi è diventato super mainstream e sono arrivati tutti a suonare in un certo modo che poi è molto poco applicabile poi effettivamente cioè figo non dico di no no Aaron Spears suona un gruppo pazzesco se vuole però non è golpe è groove è un'altra cosa per cui anche a me sembra un po' passato adesso la nuova cosa che poi non so quant'è nuova ormai non è nuova più in un certo punto no ma non è golpe quello Glasper Kohlenburg quelle cose un po' un po' un po' sballate anche lì bisogna vedere quanto dura però mi piace è interessante ma dici cazzo una vita che cerchi di essere in griglia in griglia cazzo questi qua suonati avevo visto ecco vorrei sapere cosa mi consiglieresti di ascoltare se io volessi trovare Davide Iacoella che non conosco trovare groove interessanti sia pari che dispari in ambito rock funk jazz e anche hip hop vai dove li troviamo allora appanto che si è parlato di Ringo Starr beh ragazzi groove su pop particolari se vuoi qualcosa di diverso particolare cazzo Ringo è numero uno dopo di che invece andando più avanti possiamo dire qualsiasi cosa che ribaldi con i Tower of Power se dovete sentirne uno forse Soul Vaccination vado dal vivo un po' di qualche anno fa poi sui groove pop dispari direi che Ten Summoner's Tale con Mini Con L'Aiuta li ha rivoluzionato il modo di suonare i tempi dispari in ambito pop l'ha quasi creato perché si è visto ok si può suonare il tempo dispari senza essere senza facendolo sembrare pane esatto esatto dopo Continuum con John Mayer alla batteria grandissimo 5 dischi preferiti di John Mayer con Steve Jobs alla batteria dopo qualcun altro per ricordarmi mi sono portato questo è un album che è molto anni 80 anzi credo sia fine anni 70 forse 79 però lo stesso Gad in un articolo citava come uno dei suoi preferiti non lo conoscevo eh ah no il primo che doveva comunque groove James Brown James Brown questo è un ottimo The Very Best on James Brown Clyde Stubberfield Jabbo Jabbo Star Melvin Parker esatto i brani più famosi non si può prescindere questo è un ottimo album Stentum muro alla batteria Galactic mi stai beccando tutti i miei preferiti il suo libro è uno dei miei preferiti esatto un libro di storia grande grande tutto è questo qua cioè fa le cose più anche jazzistiche con i suoi progetti qua invece con i Galactic è il suo gruppo che l'ho un po' per primo lanciato questo secondo me è live è late for the future album particolare che adesso secondo me questo non conoscete anche lui vediamolo no questo non lo conosco ok ti faccio vedere il batterista che magari poi se vuoi puoi fare la foto chi è? Jojo Mayer no sembrava quasi sovrappeso cioè almeno non 35 chili esatto questo è il primo disco di Jojo Mayer con The Fussins che la batteria la chitarra questo non lo conosce disco pazzesco dove Jojo Mayer fa dei groove anche dispari pazzeschi grandissimo gruppo lui ha fatto solo il primo disco il riconoscivo fra l'altro però anche gli altri sono interessanti dove c'è Jim Lake alla batteria poi questo lo facciamo per ultimo Neville Brothers Neville Brothers bellissimo Neville Brothers sono stati i Meters praticamente dunque anche tutti anche tutti Ziggi Modellist esatto questo invece non c'è non c'è Ziggi Modellist ma si sono Neville Brothers questo l'ho visti dal vivo facendo questo spettacolo pazzesco alzavano decisamente il palco sollevavano dal gru che c'era questo molto bello Temo Introvabile con Marvin Smith Smith prodotto da Sting di Steve Coleman in Five Elements molto interessante più jazz funk la cosa che andava in quei tempi però anche tempi dispari molto molto bello Sinedie di Steve Coleman se lo trovate o se è su Spotify molto bello questo di Schofield perché c'è un batterista si chiama Idris Muhammad Idris Muhammad che ha fatto un sacco di cose belle interessanti in ambito R&B eccetera qua un po' più sul versante funk New Orleans jazz ok ma la cosa molto bella che ricordo un po' sempre di ingostare è che ogni brano c'è un suo groove ha trovato un groove interessantissimo diverso per ogni brano per cui John Scofield Groovelation poi mi piace molto Scofield sì ecco pensa che a me non piacciono anche così tanto però a questo disco c'è Idris Muhammad che gli dà una cosa non è che c'è un'altra poi in qualsiasi cosa con Bernard Perdi allora qualsiasi cosa da Frank tutto anche lui un altro materista che ho visto sempre un brazellese che suonava con Guru Jas Mataz che era allora una cosa e anche lui ha sentito ero di fianco ero di fianco era una cosa e lo faceva tutto con la naturalezza tale da far paura poi l'ho visto sono andato a cena c'è una foto sul mio pagina Facebook dove mangiamo un piatto di trenetta al pesto assieme insomma è stato deve essere un bel personaggio è un gran personaggio un gran personaggio è un griot racconta un raccontatore un fortissimo raccontatore di storie di tutti i tipi allora visto che va bene qualsiasi cosa però c'è anche ci sono due cd dove lui praticamente suona c'è solo lui che fa tutto in groove non musica Master Drummer's Volume 1 Master Drummer's Volume 1 e c'è anche Volume 2 ok questo è senza musica per cui un certo senso dispiace però sentite ho detto ho detto una cosa bruttissima non è senza musica è senza gli altri strumenti ok è solo batteria è musica quindi questo lo consigliamo ai bassisti esatto esatto suonateci sopra questo ti faccio l'ultima domanda l'ho fatta a tutti e anche tu non puoi non rispondermi vai a registrare oggi il più grande disco della tua vita della tua carriera la registrazione più importante ma ti puoi portare un solo rullante per fare tutto cosa ti porti? Ludwig io sono adoro tutti Ludwig però se devo prendere uno suprafonico suprafonico invece che quasi manale che marchi utilizzi ho visto che hai delle bacchette firmate allora utilizzo i marchi migliori che ci sono bacchette utilizzate di Death for Drummers in realtà all'inizio facevo qua anche un po' parte della compagnia poi non ce la facevo a fare tutto per cui mi sono questa è tipo una 5A allora questa è una batteria che prima io usavo prima di questa avevo due bacchette preferite la Bolero e la Swinger tutte e due della Vic First infatti il collo abbastanza quella della Swinger la cosa che avevano in comune tutte e due è che erano non di icori col quale non mi sono mai trovato troppo bene ma in acero ora l'acero qua è molto difficile da avere l'acero americano per cui queste sono in carpino per cui date sono fatte in Italia sono fatte con legno al carpino laccate sì anche perché le facevo anche non laccate ma il carpino sorbe molto per cui facevano schifo erano tutte nere anche se mi lavavo le mani venivano subito si sporcavano era brutto per cui Mark Wolpe di Death for Drummers piatti piatti uffi ho un rapporto con Gigi ormai di amicizia con Gigi organizzo la gita tutti gli anni con gli allievi per andare lì viene anche Marco Cammia altro allievo da citare che tu conosci grande didatta con i suoi allievi per cui facciamo sempre queste gite ed è sempre un piacere e poi ho Evans Evans ok Evans con il quale ho un altro bellissimo rapporto ormai che dura con Gigi Tronci abbiamo collaborato per aver fatto io in realtà ho sentito un piccolo una parte abbastanza minore sull'accompagnamento giazzistico però dato che c'è proprio Gigi che alle spalle tutto questo oltre che all'Ambima che è l'associazione delle bande musicali abbiamo fatto questo libro che è La batteria il cammino di Giorgio dell'istrumento che per la maggior parte è scritto da Luca Luciano però c'è anche una piccola parte mia e soprattutto c'è l'endorsement di Gigi Tronci della UFIP bello bello che è divulgativo c'è un sacco di cose da mettere nelle note qua tra libri dischi adesso ti devo dire un po' Marco è stato un grande piacere è stato un grandissimo piacere anche per me mi sa che ci rivedremo per fare una parte due perché abbiamo lasciato dietro un po' di domande e poi vai già qualcosa a Piacenza sì quello sicuramente Tortelli e Pissarei se venite a Piacenza quello si va grazie mille di nuovo grazie